Ottobre 2023 qui da Leonardo Franci in Exit Advisor per il Video Tips del giorno e la rubrica all'angolo dei benchmark. Ci soffermiamo su quello che è un indice particolarmente interessante e che riguarda il settore dei semiconduttori Philadelphia Semiconductor, un indice che ovviamente fa parte del Nasdaq e che ha codice SOX famosissimo e che in questo momento sta disegnando un pattern di price action a nostro avviso davvero davvero interessante. Prima di andare all'analisi grafica dell'indice sul time frame settimanale vorrei sorfermi sul fatto che il settore dei semiconduttori è un settore veramente interessante a livello mondiale. Si stima che il mercato globale dei semiconduttori sia previsto crescere a un tasso di crescita annuale composto del 5.4 dal 2023 al 2028 e i principali fattori che guideranno alla crescita del mercato includono tra l'altro la crescente domanda di dispositivi elettronici di consumo come smartphone, tablet e computer portatili che sono i principali utilizzatori di semiconduttore. La crescente domanda infatti di questi dispositivi è guidata da fattori come l'aumento della popolazione, la crescente penetrazione di internet anche in aree sottosviluppate che continuerà a guidare la crescita di questo settore. L'aumento dell'uso dei semiconduttori nelle tecnologie emergenti, i semiconduttori sono infatti utilizzati in una vasta gamma di tecnologie emergenti come i veicoli elettrici, l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose, l'aumento dell'adozione di queste tecnologie contribuirà senza dubbio alla crescita di questo mercato. E per ultimo la crescente necessità di migliorare le prestazioni e l'efficienza dei semiconduttori. I semiconduttori stanno diventando infatti sempre più piccoli e potenti. La crescente necessità di migliorare le prestazioni e l'efficienza di quei dispositivi che utilizzano appunto i semiconduttori guiderà gli investimenti che ricerca e sviluppo in questo settore. Detto questo con una breve premessa e panoramica di questo settore andiamo a vedere l'indice SOX sul time frame settimanale da un punto di vista grafico. Quello che sta disegnando adesso è un rising wedge. Un rising wedge è una figura, un pattern di phrase action dove abbiamo una correzione rispetto a un trend primario rialzista fatta da una trend line discendente convergente con un'altra trend line che unisce minimi decrescenti. Quindi una trend line che unisce massimi decrescenti. In questo caso abbiamo il massimo della V31 del 2023, il massimo della V36 del 2023 con una trend line che invece unisce minimi decrescenti. In questo caso ne abbiamo tre. Abbiamo il minimo della V25 2023, il minimo della V33 2023 e per ultimo il minimo della V39 2023, l'ultima di settembre. Come vediamo il cambio di carattere, quindi l'avvicendamento tra un trend ribassista che ha accompagnato tutto il 2022 e un nuovo trend rialzista è avvenuto con la rottura della quarta settimana dell'anno dove è stato appunto rotto con chiusura il massimo a 2913. Nuova rottura di struttura con la candela ad espansione della V21 2023, la V21 2023 che ha definitivamente sancito l'avvio di un trend rialzista con appunto una chiusura al di sopra dei 3230. Adesso ci troviamo in area 3475, stiamo mitigando quello che è il fair value gap lasciato appunto con la cantela ad espansione della V21 2023 ricompresa tra 3229 e 3337. Ci troviamo in prossimità della min threshold pari a 3335.91. L'obiettivo, il primo obiettivo senza dubbio di questa correzione e di una successiva e presumibile gamba rialzista si ha con il ripristino dei massimi storici segnati nella prima settimana del 2022 da dove è partita la famosa correzione su time frame superiori su quelli mensili a 4068, un margine di upside circa il 17% e per ultimo in estensione a 4497, quindi un margine ulteriore di upside di circa il 30% rispetto ai livelli attuali. Un avvicendamento del carattere, quindi un'inversione di trend, si avrebbe soltanto con chiusure al di sotto dell'ultimo minimo crescente in area 2.900 punti di indice, chiusure sul settimanale che farebbero a quel punto presagire un ulteriore ribasso, quantomeno a ride e quindi a run, a stop run, di quello che è stato il minimo segnato durante l'ottobre del 2022. L'indice peraltro si trova anche da un punto di vista indicatori in un marcato trend rialzista, vediamo che le medie mobili sono impostate a rialzo, EMA 21, EMA 55, entrambe rialziste, quotano a spread e non solo, se andiamo a vedere quelle che sono gli indici di forza relativa, tanto nei confronti degli Eurostox che nei confronti dello Standard & Poor's, vediamo che la forza relativa è una forza relativa crescente, è una forza relativa positiva e abbiamo un momento ponderato sulla volatilità che comunque è in territorio positivo. Quindi da tutti i punti di vista questo settore, sia da un punto di vista fondamentale, sia da un punto di vista tecnico, appare estremamente interessante, quantomeno in un'ottica settimanale, quantomeno con targhe di prezzo e margini di upside del 17% in prima battuta e del 30% in seconda battuta. Quest'analisi è frutto anche di una selezione di un certificate quotato in borsa italiana, emesso da una principale casa d'affari europea, che è stato raccomandato all'interno del canale VIP per l'idea sui certificate di questa settimana, un certificate a cinque anni, che paga il 9,20% di cedola anno per anno, con effetto memoria, con barriere piuttosto profonde, tanto in termini di capitali condizionatamente protetto che di pagamento della cedola, pari al 55% rispetto ai livelli correnti, compostono un basket di sottostanti fatto di quattro titoli appartenenti proprio a questo settore, due dei quali europei e due dei quali americani, quindi facenti parte del mercato americano. Detto questo, per avere maggiori approfondimenti, info sullo strumento segnalato, sentitevi liberi di contattarmi in privato alla mail info-nexitadvisor.com oppure di fissare una call con noi al link che vi posterò qui sotto al video. Ci aggiorniamo al prossimo Video Tips da Leonardo Franci e da Nexit Advisor. A presto!